Ciao, sono Fabio Rossitto, sono qui con i capitani senza corrazza del gioco del ponte, con il Matteo del Punta e Matteo Baldassare. Dai, che ce la facciamo? Sempre quella lì, non è la Rai? Ciao, sono Fabio Rossitto e questi sono i miei capelli, non ce la faccio, dai! Grazie a tutti!